Pippo, dove vai? Vieni. Vieni qui a mangiare l'insalata. Vieni, ti aiuto io, ti aiuto io, non scappare, non riesci a mandarla giù così. Vieni, guarda. Sono nati i due fratellini di Gas, guardate come è diventato grande Gas rispetto a questi due piccoli trottolini. E sono tutti qua in cucina da me al calduccio, poi quando diventano un po' più robusti li riporto alle mamme. E beviamo, dai. Si è diventato proprio grande. Fatti vedere bene. Gas, come va? E adesso lui è tornato con i suoi genitori. Lo faccio vedere insieme. E tra un po' mi dimentica anche. quello piccolo rognetto, morino. E se è caldo, tutto piumoso. Buongiorno. Eh sì, è bello insieme alla sua famiglia. Eh, un po' di erbetta fresca. C'è un'aria stamattina, che fantastica. Proprio... C'è un ossigeno che mi sento quasi inebriata. Oh, beh, insomma, è bello, proprio bello. Ciao, ciao Gas!